Davanti al monumento simbolo della città di Mazzara del Vallo, l'arco normanno in piazza è stata inaugurata ufficialmente l'apertura di Blue Sea Land. A tagliare il nastro l'ambasciatore della Guinea Equatoriale in Italia, Cecilio Bonondong, accanto ad Hassan Abu Yub, ambasciatore in Italia dell'altro paese main partner dell'edizione 2016 della manifestazione, il Marocco. In prima fila ovviamente il sindaco di Mazzara, Nicola Cristaldi, e il presidente del distretto della Pesca e Crescita Blu, Giovanni Tumbiolo. La cerimonia inaugurale è iniziata con uno spettacolo emozionante sul tratto dell'arenile davanti alla scalinata di Piazza Mocarta, danzatori sui discoi in flangi flutti ed un'imbarcazione dei Vigili del Fuoco. Lo show, con un ritmo musicale incalzante e uno speaker che spiegava a Blue Sea Land l'importanza della Blue Economy, è continuato fino all'arco normanno dove tanti giovani studenti mazzaresi hanno accompagnato l'interpretazione dell'inno di Mameli di Daria Biancardi. La cerimonia è stata preceduta dal corteo sul lungomare Mazzini delle delegazioni di alcuni dei paesi partecipanti che poco prima in aula consigliare avevano partecipato al forum sull'Africa e ad una successiva tavola rotonda. La giornata di ieri è stata dedicata attraverso diversi workshop al ruolo dei distretti produttivi e alla loro innovazione ed internazionalizzazione, tra i partecipanti Federica Argentati, presidente del distretto Agrumi di Sicilia. È ovvio che il principale obiettivo del distretto Agrumi è quello di esportare le nostre produzioni nel mondo, però ci sono alcune parti del mondo in cui potremmo anche cooperare con altre vicine a noi. È chiaro che il lavoro è lungo, è un percorso molto complicato, è un percorso culturale, è un bene che ci siano iniziative come il Blue Sea Land, anche perché non possiamo pensare di fermare tutto quello che sta succedendo sulle sponde del Mediterraneo, semplicemente alzando barriere. Dobbiamo provare ad andare a capire veramente quello che sta succedendo dall'altra parte del Mediterraneo, noi siamo seduti su una sponda, loro sull'altra. Per Roberto Lagalla, consigliere di amministrazione del CNR, andiamo incontro ad una desertificazione climatica e ad un esodo di cervelli. La soluzione è nella cooperazione tra culture comuni e valorizzazione del patrimonio umano. È una straordinaria opportunità di riflessione, ed è, come ho detto questa mattina intervenendo ai lavori, ed è una straordinaria opportunità di riflessione, in particolare sui nuovi modelli possibili dello sviluppo e dello sviluppo nell'area euro-mediterranea, dove occorre trovare una coniugazione certamente più felice ai fini di una migliore ridistribuzione della ricchezza tra la valorizzazione del capitale umano, il processo di innovazione è ovviamente un'economia reale che sostituisca un'economia troppo spesso asfittica e improduttiva. Giuseppe Pace, presidente della Camera di Commercio di Trappa e Nino Che, presidente del centro di competenza distrettuale, ha sottolineato l'importanza dell'attività propulsiva delle istituzioni nello sviluppo del sistema delle imprese. Siamo fortemente impegnati su questo evento, un evento che l'amico Giovanni Tumbiolo ci ha creduto fortemente in questi anni e quindi in un clima di collaborazione che io sempre aspico tra le istituzioni, siamo qui affinché questo evento porti dei benefici alle aziende del nostro territorio. Un evento stamattina importante, si è parlata di internalizzazione, abbiamo assistito a tanti interventi positivi, le aziende presenti e non soddisfatti, cerchiamo di fare il nostro meglio affinché le nostre imprese abbiano più profitti del loro lavoro.